La manovra di bilancio deve iniziare il suo iter parlamentare. Si comincia dal Senato, ma lo scorso venerdì post-CDM si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione delle riforme costituzionali. Il premierato, in sintesi, la madre di tutte le riforme. È così che il premier Giorgia Meloni ha voluto presentarla intanto alla stampa, ma ovviamente in Parlamento attendono soprattutto le opposizioni di vedere il testo. Perché? Perché questa riforma costituzionale poi dovrà avere un percorso canonico, due volte alla Camera, due volte al Senato e se non riuscisse l'intento di trasformarla in legge, ovviamente si arriverebbe al referendum compatta. Si dice la maggioranza di governo nel sostegno a questo iter parlamentare che potrebbe andare avanti per 12-18 mesi. Ovviamente questo testo sarebbe suscettibile di cambiamento e forse sarebbe la cosa migliore a leggere anche in retroscena di oggi sui principali organi di informazione. Le opposizioni barricate faranno anche in Parlamento in un primo tempo. Italia Viva sarà detta positiva alla votazione proprio della riforma costituzionale. Questa mattina però fuori da Montecitorio il presidente dei senatori di Italia Viva Enrico Borghi ci ha detto attenzione perché ci sono una serie di passaggi che non ci piacciono ai nostri microfoni e indicato quali. Partiamo da una premessa. Noi infine dai tempi dell'appello del presidente napolitano del 2013 siamo a favore delle riforme perché riteniamo e condividiamo la lettura che questo sistema istituzionale farraggiunoso non risponda all'esigenza del governo di un paese del G7. Detto questo però le riforme bisogna costruirli in maniera coerente, non per far tornare i conti all'interno di una maggioranza o fra qualche corrente di un partito della maggioranza. E ci siamo accorti che mentre c'è un richiamo all'elezione diretta del premier che in linea di principio ci vede favorevoli non ci sono però le altre questioni di sistema che questo elemento porta con sé. Dalla riforma del bicameralismo al tema della legge elettorale al tema dei poteri del premier che non ha la facoltà come invece in Germania di nominare e revocare i ministri e più in generale ad un elemento che introduce con questo meccanismo della possibilità di surroga del primo ministro eletto da parte del Parlamento una sorta di confusione perché noi riteniamo che un premier eletto dal popolo se viene sfiduciato dal Parlamento che conserva e deve conservare questo potere debba poi tornare davanti al corpo elettorale e ci preoccupa anche questa logica un po' da salire le barricate che c'è a destra e a sinistra. Insomma non siamo neppure arrivati alla presentazione del testo in Parlamento perché ad oggi ancora non è arrivato e sia da destra che da sinistra si chiama il referendum come una sorta di ordalia di giudizio divino. Italia Viva da questo punto di vista in Parlamento proprio sulle riforme costituzionali e sul premierato potrebbe giocare un ruolo importante perché stando ai retroscene, ai rumors, a ciò che si legge anche all'interno della maggioranza di governo alcune cose non tornano proprio sul premierato e quindi probabilmente potreste lavorare in questa direzione anche voi. Comunque mancherebbero dei voti ad oggi no? Ma guardi il tema intanto non è la questione dei voti, il tema è la questione dei contenuti da cui poi discendono i voti. Noi abbiamo presentato un nostro disegno di legge e proponiamo di partire da un confronto di merito in quel disegno di legge tenendo anche distinti i piani istituzionali e delle riforme costituzionali dai piani politici legati ai temi invece della maggioranza dell'opposizione. Guardi in un paese di democrazia matura e compiuta non si grida allo scandalo quando maggioranza e opposizione dialogano per riformare la Costituzione perché la Costituzione è di tutti, non di chi governa in questo momento protempore il paese.